Ciao a tutti ragazzuoli, spero che si senta qualcosa, però questo video lo faccio per scusarmi per non aver fatto uscire nessun video in questi 2-3 giorni, non mi ricordo, però in questi 2 giorni diciamo che ho avuto un po' da fare, quindi è per questo che non ho avuto tempo di portare i video, però penso che domani pomeriggio, allora partiamo dal presupposto che questo video lo faccio uscire domani, e domani stesso farò uscire un altro video, non vi vorrei spoilerare niente, questo video sarà un pochino corto, vi devo dire solamente che vi dico scusa per non avervi portato nessun video in questi 2 giorni, spero che questo video vi sia in qualche modo piaciuto, se è così mettete un bel pollicione in su, iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto, e cliccate sulla campanina qua sotto per rimanere aggiornati sui miei prossimi video che usciranno, ci vediamo, un prossimo video, da qui è tutto, ci vediamo domani con un prossimo video, bella ragazzi.